Musica Partiti i lavori per la nuova piazza, cambia volto a Capannori il piazzale Aldomoro davanti al municipio. L'Università del Turismo, l'ex manifattura, la Fondazione Campus avrà la sua nuova sede nello storico edificio di Lucca, intanto giovani da tutta Italia ai test di ammissione del nuovo anno. Nuovo divieto di balneazione inquinata, la foce della Fossa dell'Abate in Versiglia, bagni in mare vietati nella zona tra Viareggio e Lido di Camaiore. Vagli sotto rientrano a casa le famiglie evacuate nel dicembre dell'anno scorso a seguito di una colata di fango dal torrente Grondaccia. Lo sport Favarin, Torchi alla Lucchese, prosegue il lavoro del tecnico rossonero chiamato a plasmare la squadra in vista della via del campionato. De Feo arma in più per l'attacco della Pantera, sabato test probante a Ponsacco. Ecco il calendario della Serie D, definite nel dettaglio le 38 giornate di un torneo lungo ed estenuante. Debutto in casa per Seravezza e Viareggio, in trasferta Givi Borgo e Real Forte. Alla seconda giornata è subito Givi Borgo, Viareggio. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. L'abbiamo già detto nell'introduzione del telegiornale, quindi cambia ravvolto uno degli spazi più noti di Capandori, il piazzale davanti al municipio, piazzale Aldomoro, progettato negli anni 70 e poi lasciato un po' lì, senza particolari funzioni. L'amministrazione Menesini adesso sta cercando, sta provando, invece di ridisegnare questo importante spazio, vedremo se ce la farà e se otterrà buoni risultati. Intanto vediamo il servizio. Un nuovo volto per piazza Aldomoro, un nuovo volto per Capandori. Sono iniziati i lavori nella piazza davanti al palazzo del municipio, che nella volontà dell'amministrazione dovrà diventare una vera e propria agora del capoluogo. Un progetto importante, un'opera che metterà al centro la comunità di Capandori, perché trasformerà un'area a uso parcheggio concepita negli anni 70 in uno spazio per socializzare, rilassarsi, realizzare eventi. Inoltre, nuove stanze del comune saranno messe a disposizione di cittadini e associazioni. L'intervento costerà 1.650.000 euro, di cui 600.000 euro arrivano grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per illustrare i lavori in corso, il sindaco Luca Menesini, l'assessore a lavori pubblici, i bandoni hanno effettuato un sopralluogo assieme alla stampa. Nella piazza troveranno spazio elementi caratteristici, una fontana, pietra di matraia, camele, olivi e piante autoctone. Parirà l'attuale parcheggio davanti all'ingresso comunale, sarà realizzata una nuova pavimentazione. Tutto secondo una nuova concezione con un diverso perimetro, sedute e numerose aree a veli. Sono 40 anni che la sede del comune di Capannori è qui in questo luogo e è venuta via appunto da piazza del suffragio dalla città. Sono 40 anni anche che si parla di dare una piazza, di realizzare una piazza di fronte al comune. C'era un parcheggio, c'era poco di più, oggi sono iniziati i lavori e ad inizio 2019 la piazza sarà realizzata. La piazza di tutto il comune, la piazza di tutti i cittadini perché il comune è la casa di tutti i cittadini e così sarà anche la piazza. Una piazza come luogo da vivere con il mercato che torna nella sua piazza ma anche con tante altre attività che chiaramente saranno organizzate nel tempo. Quindi l'appuntamento è ora a seguire i lavori ma presto appunto a vivere la piazza e un comune completamente rinnovato. Il mercato settimanale del venerdì sarà spostato durante i lavori negli spazi dietro e al lato del palazzo municipale. La notizia l'avevamo già data nell'edizione di martedì. La fondazione Campus, l'Università del Turismo trasloca da Monte Sanquirico al Centro Storico di Lucca per la precisione all'ex Manifattura Tabacchi. Siamo andati a riparlarne a Monte Sanquirico in occasione dei test di ammissione per il nuovo anno. Giornata dedicata ai test di ingresso ai corsi di laurea in Scienze Turistiche alla Fondazione Campus. Un appuntamento vissuto in un'atmosfera particolare quest'anno perché proprio poche ore prima era stato ufficializzato l'ingresso della fondazione in Centro Storico a Lucca. Il Campus avrà la sua nuova sede alla ex Manifattura Tabacchi in fase di ristrutturazione. Un passaggio storico per l'Università Lucchese del Turismo che da anni perseguiva questo obiettivo ma anche per la stessa città come sottolinea Fulvio Calia del Consiglio di Gestione di Campus. Portare in Centro Storico un'altra istituzione che svolge attività universitarie come Campus era nell'idea di città che abbiamo tante volte immaginato e che Lucca ha tanto volte immaginato per sé e che insieme a ciò che IMT rappresenta in un'altra zona della città completa per così dire la parte dentro le mura della città con un bel set di prodotti formativi di livello universitario e post-universitario. Ovviamente il trasferimento dei corsi di laurea in città non potrà poi che valorizzare la stessa attività del Campus. Essere inseriti nella nuova cornice della Manifattura Tabacchi consentirà un più facile trasferimento anche di know-how e di competenze che noi trasferiamo ai nostri ragazzi direttamente nel tessuto culturale e socio-produttivo della città. Quindi credo davvero che i nostri studenti potranno rafforzarsi dall'innovazione e dalla creatività che Lucca come laboratorio a cielo aperto saprà regalarci. Intanto anche quest'anno gli aspiranti operatori turistici hanno vissuto con emozione e speranza la vigilia dei test di ammissione. Studenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero attirati in particolare dall'alta percentuale di job placement vantata dal Campus. Entro sei mesi dal conseguimento della laurea triennale l'85% degli studenti fa il suo ingresso nel mondo del lavoro. Da dove vieni? Vengo da Firenze. Che cosa ti ha spinto a cercare di entrare in Campus? Mi ha spinto la voglia di diventare un direttore d'albergo e anche che questa scuola mi possa dare l'opportunità appunto di arrivare ai miei obiettivi. Tu non sei italiana, da dove vieni? No, sono brasiliana. Ma sei residente qui in Italia? Sì, sì, a Lucca. Sono arrivata qui da pochi mesi e sono qui per fare il test. E ti piacerebbe trovare un impiego nel mondo del turismo? Sì, sì, tantissimo. Mi piace tanto quest'area. Da dove vieni? Dalle Marche, solo che attualmente vivo a Forte di Marmi. Inizialmente c'è mia cugina che mi aveva proposto di venire qua alla Fondazione Campus e l'idea mi ha colpito e quindi sono venuta all'Open Day e mi è piaciuta molto. E qual è il tuo obiettivo in campo lavorativo? Allora, mi piacerebbe lavorare negli hotel e sarebbe la mia aspirazione più grande. Bocca al lupo. Crepi. A Lucca ha risolta la vicenda della nuova sede per la scuola dell'infanzia Leone XII che ha dovuto lasciare l'edificio di via San Nicolao. I piccoli alunni hanno iniziato le lezioni nei locali di proprietà del Comune lasciati liberi dalla scuola Il Girasole di Piazzale Verdi. Si è risolta così positivamente la lunga ricerca per trovare una nuova sistemazione alla scuola, ricerca che ha visto il Comune affiancare la dirigenza scolastica, in particolare con gli assessori Vietina e Bove. Ed è tempo di quelli che una volta si chiamavano esami di riparazione che ci sono stati anche. All'Istituto Tecnico Carrara e c'è stata anche la sorpresa, uno dei ragazzi coinvolti negli atti di bullismo dei mesi scorsi è stato promosso. Vediamo. Ha superato gli esami di riparazione ed è stato promosso uno dei ragazzi coinvolti negli atti di bullismo ai danni di un professore dell'ITC Carrara di Lucca. Bocciati invece gli altri due che erano stati comunque ammessi alle prove di settembre. Altri tre ragazzi, quelli coinvolti in maniera più grave negli episodi, non erano invece stati ammessi agli scrutini. Cala così il sipario su una vicenda che ha portato la scuola lucchese alla ribalta della cronaca nazionale. Contattato da Noi TV, il preside del Carrara, Cesare Lazzari, ha sottolineato che l'esito degli esami non aveva più niente a che fare con quanto accaduto nei mesi scorsi, cioè con i ragazzi in questione sono stati adottati i criteri di valutazione usati per tutti gli altri studenti. Detto questo, il preside ha riconosciuto l'impegno profuso dal ragazzo promosso che ha mostrato un netto miglioramento rispetto al passato anno scolastico ed ha così raggiunto la piena sufficienza. Forse questa esperienza gli è servita, ha detto Lazzari. Gli altri due ragazzi erano ormai invece demotivati, ha detto il preside. Hanno mostrato dei miglioramenti ma non sufficienti e per loro l'anno si è chiuso con una bocciatura. Cambiamo argomento, cambiamo anche territorio, andiamo in Garfagnana a Vagli dove sono rientrate nelle loro case le famiglie che erano state evacuate l'anno scorso a causa del maltempo. Le famiglie che erano state evacuate nel dicembre dello scorso anno a Vagli sopra hanno potuto fare rientro finalmente nelle loro abitazioni nella zona di Via del Giovetto dove proprio in questi giorni è in fase di completamento il cantiere che si trova a pochi metri sopra le abitazioni. I lavori per la messa in sicurezza della sponda a nord del paese hanno interessato circa 300 micropali ancorati a 35 metri di profondità oltre alla realizzazione di opere di ingegneria naturalistica il tutto per rimettere in sicurezza questa parte del paese colpita meno di un anno fa. Più in basso nei pressi del municipio, in località Albivio, altra opera importante, questa volta resasi necessaria per mettere in sicurezza la strada e anche le abitazioni al di sopra della zona interessata. I due interventi, quello di Vagli sopra e quest'ultimo, hanno comportato un investimento totale di 600 mila euro in buona parte finanziati dalla regione toscana con il contributo del comune di Vagli sotto. Anche in questo caso si è trattato di un intervento sui danni causati dal nubifragio del dicembre del 2017. Era avvenuto un disastro, qui era franato tutto questo monte sopra e anche la strada era stata interrotta. Noi con un intervento di bioingegneria abbiamo fatto la sicurezza e poi abbiamo fatto l'arredo urbano al comune di Vagli sotto. È un lavoro di alto precio, l'ingegnere Mariolino Morganti l'ha progettato e noi l'abbiamo realizzato. Scatteranno nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 settembre i lavori del secondo lotto di messa in sicurezza della strada regionale 445 della Garfagnana in località Acquabona al confine tra i comuni di Castelnuovo e Gallicano. Due anni fa la provincia realizzò il muro di cemento armato lungo 90 metri per mettere in sicurezza il versante montuoso. Il muro ha però ridotto la larghezza della carreggiata e questo secondo lotto di lavori servirà proprio per eliminare la strettoia e riportare la larghezza della strada a 8 metri e mezzo circa. In concomitanza con l'inizio dei lavori sarà installato dalla ditta appaltatrice un semaforo a temporizzazione variabile che consentirà di regolare i flussi di traffico a seconda delle fasce orarie. Quindi riducendo, si spera, i tempi di attesa nelle ore di maggior flusso tra le 7 e le 9 della mattina e tra le 16 e le 18 del pomeriggio. Ci spostiamo in Versilia per un nuovo divieto di balneazione alla foce della Fossa dell'Abate. Brutte notizie per turisti e residenti a pochi giorni dall'inizio del mese di settembre. Viareggio e Camaiore, dopo i rilievi fatti da Arpat alla foce della Fossa dell'Abate che segna il confine tra i due comuni, hanno decretato il divieto di balneazione che interessa per fortuna una piccola zona di competenza di Camaiore per una parte e di Viareggio dall'altra. Una gestione della balneazione a corrente alternata, dicono i balneari, dopo aver letto la relazione di Arpat che aveva effettuato i campionamenti dell'acqua lo scorso lunedì. È un'ennesima tegola, purtroppo sta passando la percezione nella nostra clientela che in Versilia l'acqua non è pulita e questo è un danno di immagine incalcolabile. Si dovrà ora attendere un eventuale nuovo campionamento delle acque di mare dall'esito favorevole per procedere alla revoca del divieto di balneazione e puntare all'allungamento della stagione balneare confidando nel bel tempo. Il rammarico più grande è che a distanza di anni, di interventi di GAE, aceto pedaceotico, la realtà è che quando piove andiamo subito in difficoltà e appare subito il divieto di balneazione. Quindi ha piovuto a settembre e il divieto l'abbiamo a settembre, se pioveva di luglio o d'agosto la situazione non sarebbe cambiata. Adesso parliamo di musica e di due appuntamenti di rilievo all'interno del settembre lucchese targati Andrea Colombini. Uno di questi appuntamenti tra l'altro sarà trasmesso in diretta da Noi TV. Sentiamo. Un settembre di grandi eventi musicali per il Puccini e la sua Lucca Festival di Andrea Colombini. Si comincia domenica 9 settembre alle 21.15 con il Mozart Gala nella chiesa di San Giovanni. Sul palco ci sarà l'orchestra sinfonica Città di Grosseto che eseguirà una selezione di brani mozartiani. Poi venerdì 14 settembre ancora alle 21.15 e ancora in San Giovanni il Gran Gala Lirico per la Santa Croce che quest'anno sarà trasmesso in diretta da Noi TV. Anche quest'anno l'orchestra filarmonica di Lucca da me diretta sarà la star del concerto con i solisti Francesca Maionchi, Nicola Simone Mugnaini, Michele Pierleoni, Gabriele Spina e Romano Martinuzzi. Il coro lirico della Versiglia diretto da Elisabetta Guirugli, un programma che ovviamente toccherà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Joachim Rozzini, Richard Wagner e soprattutto musiche di Giacomo Puccini perché il titolo del concerto sarà Puccini e gli altri. Concerto particolarmente importante perché organizzato in collaborazione con la mostra cinematografica Claudia Cardinale Diva Senza Tempo, un concerto sponsorizzato dal nostro sponsor, grandissimo sponsor cinese Cadenza Piano Foundation, i più grandi produttori di pianoforti nel mondo che saranno anche presenti con il presidente della società e che da quest'anno supportano ufficialmente i Puccini e la sua Lucca Festival e creeranno anche un brand di pianoforti dedicato a Giacomo Puccini. E la cosa importante è che per tutti e due gli eventi c'è ingresso libero e gratuito per tutti i cittadini di Lucca e della provincia di Lucca. Raccoglieremo offerte per il centro missionario diocesano dell'Arcigiocesi di Lucca per progetti che riguardano il territorio africano per aiutare gli africani a casa loro e questa è una cosa particolarmente importante che ci tenga a sottolineare perché è il quarto anno di collaborazione con l'Arcigiocesi su questi progetti. Dunque vi aspettiamo 9 settembre, 14 settembre, qui nella Basilica di San Giovanni, Chiesa di San Giovanni, qui a Lucca per questi due meravigliosi appuntamenti. Le immagini che state per vedere si riferiscono alla cerimonia di commemorazione istituzionale in occasione del 74esimo anniversario della liberazione di Lucca dal nazifascismo, cerimonia che si è tenuta nell'aula del Consiglio Comunale a Palazzo Santini. Ovviamente sono intervenuti rappresentanti dei partigiani e delle associazioni combattentistiche. Nell'occasione è stato presentato il libro Antifascisti Lucchesi nelle carte del casellario politico centrale a cura di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura. Ed è stato assegnato anche il primo premio coraggio morale che è andato alla signora Hortensia Mele di Roseto degli Abruzzi, che ha dimostrato generosità e senso di umanità con la concessione d'uso della sua casa a Lucca ad una famiglia proveniente dalla Siria. La signora non è potuta essere presente alla cerimonia. Il premio è stato ritirato da un rappresentante della comunità di Sant'Egidio. E concludiamo ancora a Lucca. In centro storico sono stati presentati nuovi mezzi in dotazione ai carabinieri in occasione dei controlli nel periodo del settembre lucchese. Per i controlli sul territorio nel periodo del settembre lucchese, i carabinieri potranno contare su due nuove moto a quattro ruote, i Cudder. I due mezzi arrivati in comodato d'uso dalla casa produttrice sono stati presentati al Caffè delle Mura alla presenza dei vertici lucchesi dell'arma e del prefetto Maria Laura Simonetti. I Cudder sono mezzi particolarmente agili. Grazie ad un sistema idraulico possono inclinarsi in curva come una moto a due ruote, riuscendo comunque a rimanere aderenti all'asfalto su tutte e quattro le gomme. L'ideale per percorrere velocemente ma in sicurezza strade tortuose o dissestate. I mezzi saranno utilizzati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Lucca nei quotidiani servizi di pattuglia e per lustrazione. Sono dei mezzi di recente assegnazione, sono monocilindrici, hanno una cilindrata di 400 cm3 e una potenza di 35 cavalli. Consentono di essere guidati con la stessa facilità di un comune scooter, ovviamente avendo quattro ruote offrono un grosso supporto in termini di stabilità. Su quale territorio verranno impiegati? Al momento noi li impiegheremo soprattutto nel capoluogo, sia nel centro storico sia nelle altre località di maggiore richiamo turistico e nonno. Sono sicuramente dei mezzi che consentono di rendere ancora più efficace dal nostro punto di vista l'attività di controllo del territorio e di pronto intervento proprio per le caratteristiche che ho prima illustrato. È tutto per la cronaca, tra poco passiamo allo sport.